Il titolo è abbastanza nebuloso, si parla di un viaggio tra le nuvole. In realtà la presentazione punterà molto al concreto. In questa presentazione non sarò solo io il relatore, perché abbiamo uno special guest questa volta, che è Hans Delener, il nostro EMEA Evangelist, che farà l'ultima parte, grazie, un bel applauso, ok, perfetto. In cui ci sarà l'ultima parte in cui parleremo del nostro supporto al Cloud Director di VMware, questa è una cosa di cui si occuperà Hans, e mi raccomando, lasceremo uno spazio verso la fine per domande e risposte. Quindi è una buona occasione se avete delle domande specifiche da fare ad Hans o a me, insomma, cogliete l'occasione. Qui non ci sono solo i riferimenti, ma anche i nostri account Twitter, quindi prendete nota. Allora, io faccio una piccola premessa. La mia presentazione verte sul Cloud, un termine di cui ci si riempie spesso la bocca, soprattutto in questi ultimi tempi. Io parlo ovviamente di offerte dal punto di vista di Cloud Provider. Un'offerta Cloud ha, come ben sapete, dei requisiti ben precisi. Alcuni di questi li ho cercati di raggruppare in questi tre punti. Ne manca uno, quello della multi-tenancy, che andrò un pochino più in profondità durante la presentazione. Comunque, partiamo con i primi, semplicità e scalabilità. La soluzione di un Cloud Provider deve essere, perlomeno l'offerta di un Cloud Provider, sicuramente deve essere semplice, perché deve essere semplice da gestire dal lato del Cloud Provider e deve essere semplice e fruibile dal lato dell'end user. L'offerta deve essere sicuramente scalabile, perché il Cloud Computing è basato su un modello di on-demand. Quindi deve essere scalabile a proprio piacimento, sia in un senso che nell'altro. L'offerta deve essere il più possibile, spesso, perlomeno, molti Cloud Provider, mi citano questo, cioè il fatto che deve essere un'offerta standard. Cioè, spesso i Cloud Provider offrono un catalogo, per esempio, di sistemi operativi o di macchine virtuali che possono offrire ai loro clienti. Questa uniformità è anche un pregio delle offerte Cloud, perché si sa che, per quanto le si possa customizzare, eccetera, c'è un livello qualitativo, no? Che è trasversale a tutto l'offering. Un altro punto è l'affidabilità, no? E ovviamente il rispetto degli SLA. La soluzione, per sua stessa definizione, deve essere affidabile, perché io sto esternalizzando i miei servizi su un'offerta Cloud, quindi questi mi devono garantire affidabilità 24 ore su 24, e mi devono garantire degli SLA. Questi qui sono concetti abbastanza comuni, di cui spesso sentite parlare. Ora, perché Veeam? Veeam Backup Replication possiede questi requisiti, ed è uno dei motivi per cui è così diffuso anche tra i Cloud Provider in Italia. Innanzitutto, perché, faccio degli esempi concreti, è semplice, è semplice perché è completamente agentless, è semplice perché da un unico backup a livello immagine delle macchine virtuali è in grado di fare tutti i tipi di restore, ok? Quindi l'intera macchina virtuale, il singolo file, ma anche un oggetto applicativo come una mail, dopo vedremo un esempio. È un prodotto molto scalabile, è scalabile tanto quanto è grande l'infrastruttura virtuale che è in gestione. Non c'è bisogno di mettere altri Veeam Backup Server per avere più scalabilità, cioè si può fare anche così, ma lui è in grado di sfruttare anche le macchine virtuali già esistenti, ok? È standard perché di fatto non è che noi dobbiamo supportare applicazioni particolari, il sistema operativo con la service pack, tal dettaglio, eccetera. Noi di fatto Veeam ha un grande pregio, deve supportare l'hypervisor e quando supporta quella versione dell'hypervisor, tutto quello che ci sta sopra per noi è automaticamente supportato. È indifferente che voi abbiate applicazioni come Oracle 7, 8, 11, 12, oppure avete il sistema di posta tal dettaglio, eccetera. Noi comunque vi diamo sempre la potenzialità di fare un restore a tutti i livelli, su qualsiasi applicazione, indipendentemente dalle versioni. È affidabile, è affidabile perché in modo unico rispetto ai prodotti sul mercato, Veeam è in grado di fare per esempio i test di restore in maniera completamente automatica. Cioè un vero test di restore tutte le volte che volete, in maniera schedulata. E ovviamente il rispetto degli sla, perché per esempio Veeam, una delle funzionalità per cui è più famoso, per esempio è la capacità dell'instant restore, la capacità di fare un restore istantaneo di una macchina virtuale. Questi qui sono tutti funzionalità o concetti che sono sempre stati di grande interesse per il cloud provider ed è per questo che molti di essi lo utilizzano anche in Italia, nel Paese delle Meraviglie. Io l'ho chiamato il Paese delle Meraviglie perché è un qualcosa che recentemente in un mio webinar che verteva sulla cloud edition, c'era un po' qualche partecipante che diceva sì è vero, anche se purtroppo in Italia abbiamo a che fare con ancora il digital divide, un'agenda digitale che è comunque indietro, eccetera eccetera. Io gli ho anche risposto sì è vero, però quanto in realtà siamo bravi? Perché qua ci sono alcuni cloud provider, sia grossi che piccoli, e in realtà noi riusciamo ad erogare sul mercato anche soluzioni cloud veramente sofisticate. Io parlo spesso con i miei colleghi all'estero e vi assicuro che l'Italia è avanti e non insegue affatto, anzi è uno dei settori di mercato dove assolutamente siamo in grado di offrire qualcosa di veramente avanzato. Noi ci piangiamo sempre un po' troppo addosso e pensiamo sempre di essere l'ultima ruota del carro, è tutto al contrario, ve l'assicuro, ve l'assicuro. Allora, Vim è diffuso nell'offerta cloud sia a livello di end user che di cloud provider. Vi faccio degli esempi concreti, parto prima da soluzioni di cloud ibrido, dove di fatto, qui in questo caso, Vim Backup Replication viene acquisito, beh in realtà questi scenari che vi faccio vedere possono essere visti in entrambi i modi. In questi scenari Vim è posseduto dal cliente finale. In genere che cosa vuole fare il cliente finale? Beh per esempio vuole fare un disaster recovery sfruttando un cloud provider. La prima soluzione che permettiamo agli utenti è di sfruttare la Backup Replication Cloud Edition. Fondamentalmente per tutti quei clienti piccoli in genere, che non hanno neanche un sito disaster recovery, gli permettiamo di trasferire i loro file di backup direttamente verso soluzioni di cloud storage offerte da alcuni cloud provider presenti sul mercato. Ora vedete qua c'è Amazon, Azure, Rekspace eccetera, tutti grandi nomi. Io però faccio sempre riferimento alla quarta riga, vedete, file system storage account. Questo è probabilmente l'entry più importante per i cloud provider italiani, perché anche se non supportate le API di OpenStack o non avete intenzione di offrire la vostra soluzione di cloud storage mediante OpenStack, beh, potete comunque offrire un'offerta di cloud storage attraverso un indirizzo IP pubblico, senza aver bisogno di necessari API. E c'è grande valore in questo, perché i cloud provider italiani, a differenza di Amazon eccetera, sono sul territorio. Se succede qualcosa, il cloud provider può mettere i file di backup di Vim in una chiavetta e spedirli nell'arco di due ore con un DHL o un SDA eccetera, direttamente al cliente. Amazon non lo può fare. Il secondo scenario in cui noi siamo diffusi in soluzioni di cloud ibrido è invece questo, dove di fatto l'utente finale ha un'infrastruttura web aware, ha il proprio Vim backup server, qui segnalato da quell'ingranaggio, ma presso la struttura del cloud provider c'è un altro componente di Vim che è quello definito Vim proxy, ok? È semplicemente una macchina virtuale o fisica, diciamo, arruolata dal software Vim. Questo permette di trasferire i vostri file di backup, oppure semplicemente di fare un backup direttamente verso il sito del cloud provider, sfruttando, facendo ottimizzazione di band, encryption e tante tante altre cose. Questo grazie anche alle funzionalità di deduplica e compressione. Di fatto, opla, ok, devo far vedere l'animazione visto che ci ho messo un pochino di tempo per farlo. Ok, qui anche in questo caso è una soluzione leggermente più complessa di quella precedente perché in questo caso il cloud provider deve mettere a disposizione almeno un server, ok, che faccia da proxy, diciamo che faccia l'altro elemento da ponte per il cliente. Andiamo ancora più... Facciamo le cose ancora più complesse. Terzo scenario è questo, dove l'utente finale non vuole fare semplicemente un backup remoto, ma vuole avere una qualità di servizio ancora superiore, uno SLA ancora migliore. è la possibilità di fare una replica direttamente delle proprie macchine virtuali verso il cloud provider. Quindi questo non vuol dire trasferire il file di backup, vuol dire che le macchine virtuali sono pubblicate sull'infrastruttura virtuale remota del cloud provider già pronte a partire. È tutto un altro livello di servizio, perché non devo passare per le fasi di ristoro, ovviamente. Ora, qui la cosa si fa, volendo, ancora più complessa, perché in questo caso non basta più avere il famoso concetto dei proxy, ma dall'altra parte il cloud provider deve fornire al cliente almeno un SX o una fetta di SX. Ora, queste sono tutte soluzioni che, visto che, diciamo, il Vim Backup Replication è posseduto dal singolo cliente finale, già di per sé offrono anche un altro requisito dell'offerta cloud, che è la multi-tenancy. Questo perché ognuno, già l'offerta cloud, gli propone la sua fetta di data center, quindi, e visto che lui possiede Vim Backup Replication e vede solo il suo scopo di macchine virtuali, è un qualcosa che può essere tranquillamente implementato garantendo la multi-tenancy. Le cose si fanno ancora più complicate quando si va sull'accezione che tutti abbiamo di offerta cloud, cioè cloud pubblico. Qui le cose si fanno ancora più complicate, perché in generale, in questo caso, non ho, o perlomeno potrei averne anche una parte, ma in ogni caso si parla di server e macchine virtuali che sono all'interno, già, dell'infrastruttura del cloud provider e in questo caso, in generale, è il cloud provider che possiede le licenze Vim. Ora, il punto fondamentale, però, di una implementazione di questo tipo è, cioè, perlomeno il cardine intorno a cui deve ruotare tutto, è questo, il concetto della multi-tenancy. Cioè, io non posso permettere al mio singolo cliente di quando si fa una restore di un singolo file di una macchina virtuale di vedere tutti i file o tutte le macchine virtuali degli altri clienti. Devo garantire, no, la visibilità minima e granulare a quel cliente della sua fetta del data center. Ora, vi faccio una piccola premessa. Vim Backup Replication non è un software multi-tenant, ok? Non ha la multi-tenancy integrata. Non è architetturalmente multi-tenant. Questo, però, in realtà, non è mai stato un problema. Una delle principali caratteristiche di Vim è la semplicità e la flessibilità. Vi faccio vedere degli esempi concreti di come... Vi ricordate all'inizio cosa avevo detto? Già ci sono molti cloud provider in Italia e all'estero che utilizzano Vim. Se volete un nome importante, Rekspace, ok? Utilizza Vim. Non si è mai fatto problemi riguardanti la multi-tenancy, eccetera. Il punto fondamentale, però, è questo. Faccio vedere degli esempi concreti di come comunque si può ottenere la multi-tenancy con Vim, già anche adesso. Vedete, questa è una pagina web. Qui c'è il link. Ok. Riporto questo esempio. È un cloud provider australiano. Spesso, probabilmente, chi ha visto queste presentazioni lo ha visto citare, eccetera. Ma perché cito questo? Non perché bisogna andare in Australia a vedere come fanno le cose, ma perché sono gli unici che nella loro pagina pubblica web mostrano questa cosa che è l'esempio più concreto che vi posso fare. Vedete, adesso cerco di ingrandire la schermata. Questa è la console che loro mettono a disposizione nella loro offerta cloud per dare al cliente finale la possibilità di crearsi i suoi job di backup in autonomia. E sapete che cosa c'è dietro questa pagina web? C'è la PowerShell di Veeam. Veeam può essere gestito anche via scripting col suo PowerShell Snap-in. Ok? E loro semplicemente hanno mascherato i comandi di PowerShell per... li hanno messi all'interno del loro orchestrator, della loro cloud management platform per garantire un servizio di questo tipo. Il cliente vede questa console, mette gli orari, le macchine virtuali da backupare, eccetera. Ma andiamo su quello... approfondiamo ancora di più la cosa. Quello su cui mi rivengono più richieste è la parte di restore. Ok? Allora, tutti hanno in mente... Chi conosce Veeam? Chi già utilizza Veeam qua? Ok, benissimo. Tutti, quando si parla di restore, di multi-tenancy, hanno in mente questa schermata. Perché quando l'abbiamo tirata fuori, tutti vedevano in prospettiva il discorso della multi-tenancy. Perché io sono un utente, qui si possono creare più utenti, vado nella console e mi faccio il restore in autonomia. Il problema è che il singolo utente vede tutti i file di tutte le macchine virtuali. questa non è una console multi-tenant. Tutti si focalizzano su questo perché è una console che comunque strizza l'occhiolino alla multi-tenancy. Ma in realtà la cosa può essere ottenuta e fatta ancora in modo più potente e più avanzato di questa console in altre modalità. Anche se il discorso della multi-tenancy e altre cose sono cose che vi potete aspettare nel breve futuro e in questo lascio la parola ad Hans. vi do degli esempi concreti di come si può affrontare il discorso del restore multi-tenant in un'offerta cloud. Allora, primo esempio è questo. Allora, questo è ancora una volta script in PowerShell. Sono 12 righe di script di cui in realtà 6 sono commenti. 6 righe ed è uno script che posso tranquillamente parametrizzare perché l'unica cosa che mi serve vedete è vmname vpowerclilocal quello lì è il nome della macchina virtuale mi posso semplicemente fare un file di testo con l'elenco delle macchine virtuali del cliente in maniera completamente automatizzata. Mi ci crea anche un menu a tendina nella mia pagina web. Però io capisco che dice sì ma ci stai parlando di scripting poi sono cose difficili da manutenere eccetera sì mi permette grande flessibilità però io voglio qualcosa di un pochino più robusto un pochino di più user friendly eccetera. Ci abbiamo anche questo. Tutti si dimenticano c'è tutti in realtà ci sono già dei cloud provider che lo utilizzano così che noi forniamo al mercato la backup free edition che di per sé è un file manager molto utile non ha nessun costo e visto che questa console può essere agganciata al backup repository del singolo cliente che ovviamente avrete insomma diciamo gestito con delle quote dei permessi quindi qualcosa su cui la multitenance è molto facile e la segregazione è molto facile da implementare questo può essere agganciato al vostro repository e quindi lui potrà avere visione solo ed esclusivamente dei propri file di backup e contrariamente alla web console che vedevate prima da qui lui si può fare il restore di un singolo file il restore di un'intera macchina virtuale e anche il restore di una mail è molto più potente usare questo che usare la web console ok questo per darvi degli esempi concreti di utilizzo di Veeam già adesso con questa versione ok in modalità multitenant ora io mi avvio verso la parte finale del mio discorso allora spesso quando vado dai cloud provider tutti mi fanno queste domande no il prodotto è multitenant ha le API perché anche questo è qualcosa di molto interessante avere un prodotto che ha delle API con cui posso customizzare l'utilizzo del software stesso allora queste sono cose che sono in via di sviluppo ma la cosa più importante che vorrei che i cloud provider mi chiedessero e che poi di fatto quelli che poi acquistano Veeam insomma riescono ad andare oltre queste domande è per esempio questa che tipo di servizi potrei erogare con Veeam perché allora in commercio ci sono una marea di software di backup e tutti in qualche modo nel nel modo customizzando lavorandoci sopra eccetera possono in qualche modo offrire un servizio multitenant però attenzione vi faranno sempre solo delle cose il backup ed il restore con Veeam si può fare qualcosa di più ok vi faccio degli esempi con Veeam si può fare backup ma anche replica con Veeam tramite l'utilizzo della sandbox dello sure backup eccetera si possono creare degli ambienti di test on demand istantanei su cui il cliente può fare tutti i test che vuole con Veeam si può garantire un'affidabilità dei propri backup fino al 100% andiamo avanti che possibilità di segmentazione della mia offerta mi garantisce Veeam perché con Veeam è possibile garantire al cliente il restore quello classico oppure l'instant restore quindi mi permette di segmentare la mia offerta commerciale e si ti offro il restore a più livelli quello diciamo classico e quello più veloce se vuoi lo slot maggiore per le tue macchine virtuali ok mi paghi tot oppure voglio garantire i tuoi backup a una velocità di 50 megabyte al secondo o 100 megabyte al secondo questo è possibile regolarlo direttamente la console di Veeam con delle semplici regoline direttamente alla console anche questo quale effort di manutenzione mi richiede Veeam Veeam è completamente agentless tenetelo bene a conto e garantisce la piena compatibilità con tutte le macchine virtuali che sono all'interno di quella release di hypervisor supportata questo è un qualcosa che mi sgrava molto l'effort di gestione della mia infrastruttura virtuale vi faccio un esempio di una delle caratteristiche magari più banali ma che è più apprezzata dei nostri clienti di fascia particolarmente alta la fascia di livello enterprise il fatto di creare i job per container per resource pool per datastore eccetera vuol dire che qualsiasi macchina virtuale creata dal cliente o dagli applicativi all'interno di quel container logico verrà automaticamente messa sotto backup non mi devo più ricordare crea una nuova macchina virtuale ci devo mettere dentro la gente e poi devo creare il job di backup no so già che ho già creato tutti i job di backup per coprire tutte le mie macchine virtuali di tutti i miei clienti indipendentemente da che cosa farà quel cliente nel tempo mi permette di offrire uno standard assolutamente sì e prima ho fatto degli accendi noi supportiamo la release dell'hypervisor se avete ora col 7 ora col 8 ora col 11 vi diamo comunque la possibilità di fare un restore di una tabella stessa cosa per SQL stessa cosa se il cliente usa Zimbra o Exchange o Lotus o software di posta chi che sia Qmail Open Exchange abbiamo clienti che usano Qmail un ultimo punto che tipo di SLA e di affidabilità potrei garantire ok perché queste qui sono cose importanti sono i requisiti che avevo citato proprio nelle slide iniziali con Veeam posso offrire un instant restore ma posso garantire appunto i testi di restore automatici posso offrire gli ambienti di test on demand posso offrire anche i test di disaster recovery in maniera completamente non automatizzata ma in maniera in una maniera tale per cui il cliente non di certo deve toccare nulla sull'ambiente di produzione e se lo può fare completamente in autonomia vi faccio poi un'altra domanda se volete provocatoria vedete tornò alla slide di prima vedete qui c'è il cloud provider la multitenancy vim backup replication eccetera allora di fatto io quando vado dai cloud provider alcuni cloud provider la domanda che mi viene fatta spesso quella che dicevo prima ma il software è multitenant beh molti di voi si saranno accorti che non basta avere software di backup multitenant ma bisogna avere tutto lo stack completo della propria offerta cloud che sia multitenant a volte questo in genere poi i clienti lo realizzano subito dopo la prima visita cioè il fatto di avere la multitenancy in un prodotto non vuol dire poi che questo mi renderà le cose più facili dal punto di vista di un'offerta cloud multitenant quindi quello che prima di tutto deve essere chiaro al cloud provider è che tipo di cloud management platform sto utilizzando perché è questa che fa da leader per tutto il resto per il software di backup per il software applicativo di gestione lo storage eccetera 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 dipende tutto da questa e sotto questo profilo lo sapete ce ne sono diverse di cloud management platform come ben sapete la versione 7 di VM Backup Replication è in previsione di uscita per Q3 di quest'anno e ha una una novità una delle novità interessanti che abbiamo incluso è il pieno supporto al cloud director di VMware che di questo ci parlerà in più in modo più specifico il nostro special guest Hans grazie Gianluca that's all in Italian that I can speak about I'm lucky to work for Veeam that I know all the slides so I know a little bit what he talked about if I say something double I hope not I'm an evangelist for Veeam software a difference with some other evangelists is that I will look in your eyes not over your eyes and I will make it short not 10 minutes longer than necessary so I'm just going very shortly about a few of the new features in Veeam backup application version 7 that is coming in Q3 I'm going to do it with a few screenshots I make it as fast as possible that we go into Q&A I really want you guys to ask some questions about your implementations in the field to Gianluca maybe to Danilo or if it's about the products that I can help you with so first of all Veeam has in the past always had the question what is next what is your roadmap and Veeam has never I saw that there's a lot of Veeam customers today and end users we've never given a roadmap never and it was because we are pretty fast in R&D and when we start giving you a feature it is almost a new version that is coming out so we didn't want to give all the things that are in the roadmap the other point is that we don't want to make a roadmap too far ahead and promise you things that will not be there so that's the reason there's never been a roadmap however Veeam today is a company with a thousand people as of last week we have over 60,000 customers now and we get a lot of bigger customers we get a lot of cloud providers that come in and they really ask us now so we really need some features of a next version we really need to know where you will be in six months or in nine months in ten months so we are going to do a countdown to version seven this means that every two three weeks we are going to release a new feature up until the new version seven will be released so the first one was the support for vCloud director this is the first feature that we already released I'm going to show you a few of the screenshots how it looks like I'm going to give you a few of the details not everything I cannot answer everything because it's still in R&D of course the second feature we released and I think a lot of the people that actually do the work will like this that there will be a vSphere web client I'm going to show it also what it means a vSphere web client a third one I don't know how many of you use SharePoint we call it ScarePoint and I think you know why it's just not easy to do restores from SharePoint it's not even easy to work with SharePoint as such but we have an explorer for SharePoint coming up everyone knows the explorer for exchange we already released so the explorer for exchange gives you the possibility to look into the exchange edb file before you have to restore it so you don't have to restore an entire edb file before you can restore single items we can do a search through the entire edb file finding different emails instead of just if someone asks you to recover an email you don't have to ask him when did that email come in what was the title of the email I need to find it in the list where the email is okay we can do a search like a google search over the entire edb and then do single email single contact single calendar item recoveries without actually restoring the entire database okay so that was the vm explorer for exchange and we're doing exactly the same thing with sharepoint okay so together this is the landing page go.vm.com slash version 7 slash v7 and we will release a new feature every two three weeks there's another feature coming on next week everyone knows the virtual labs the uair which gives you the application item recovery out of any type of application sure backup where we check the backups if they actually are recoverable up until in the application and virtual labs just as being a virtual lab to do training and development we're going to release that so I'm giving you a little scoop here we're going to release that too for Hyper-V okay so all those features that were there for VMware it's not a big feature for today but that's going to be number four next week I just made the blog post this morning so general availability of version 7 will be Q3 Q3 as in being we don't know when in July August or September but it will be in those three months okay probably it will be in the beginning of the summer whatever the reasons it might be delayed a few weeks might be some features it depends on how hard some of the features we really want in there are to integrate one of the examples I will give you in a minute so Veeam support for vCloud director the first statement is not entirely correct Veeam already supports vCloud director yes however we support the backing up of VMs managed by vCloud director we do not support today that you can restore the entire vApps and that you can restore all the metadata that goes beyond the vCloud director so we will show you that that we will support all the metadata all the attributes it's going to be in one of the screenshots we can restore the vApps directly or the VMs only to the VCD also the management suite who's using the management suite where sales we do have Veeam backup replication we have a second product who is Veeam 1 Veeam 1 does monitoring and reporting of your virtual infrastructure together they are Veeam management suite and it also gives you the reporting and monitoring of your backup infrastructure of your storage of your bandwidth that is used and you can do some reporting out of that also capacity management is in there that you can actually have a report that your backup infrastructure your data stores will be full in 18 or in 20 days you get that report and you go to your boss and say I need new storage I need more storage for backup please give me more storage so that's in the Veeam management suite where you have the integration with the backup at one side and the monitoring and reporting on the other side that will also be integrated in the Vcloud support will support VCD 5.1 and above so if you are still on the 1.0 versions think about your upgrade path will be there in a few months maybe you will be there too in a few months next slide powerful deep integration everything in Veeam if you know us already everything we do is actually API based we use a VADP from vSphere we use PowerShell ourselves as front end API everything even with the left hand integration we have now we use a left hand API everything is scripted but with an easy to use interface so here too will everything will be VCD API again back to everything Veeam does this means that we will not need agents there will be no agents in your virtual machines there will be no agents in your hosts okay everything is API based this is actually one of the better parts of Veeam that we use the APIs we don't have to redesign our agents again for each and every deployment okay think about it's the same answer when someone asks me and it's a question I get a lot I know why don't you do physical servers if we have to do backup of physical servers we need to do agent support for all types of hardware okay we don't have to do that we work APIs one of the benefits you have with working only with APIs is that we were the first in the industry a few months ago to support vSphere 5.1 and support for Server 2012 because we only use APIs because we only use virtual infrastructures so it's a big difference when you choose data protection solutions looking at how we do it okay no agents means we can develop faster than easy to use as everyone is already using Veeam I think that is one of the main reasons that you're using Veeam because it's just so easy I have complaints sometimes for resellers that go into enterprise environments they don't get it sold because it's too easy it's just a white plane with a few buttons and how can that be an enterprise product okay but if you talk to the people the administrators that are using it on a daily base I manage a Twitter account at Veeam I have an easy job there's no complaints whatsoever if you don't believe me just do that follow Twitter at Veeam do a search follow it for a few weeks see how many complaints you get do the same search with a few of our competitors and I won't mention them take any if there's any place where you would complain it would be social media and I have the best job out there easy to use powerful last one is affordable those are the three keywords within Veeam because we don't have agents we don't sell agents so let's go to the screenshots because here it is where it becomes interesting for you where you saw already your vSphere Hyper-V and your Windows servers where your backup servers and your hosts you'll just have another tab here below where it says VCloud okay how does it look when we go into the VCloud view oh maybe you know how this view looks like exactly the same as it looks like in your vCloud director okay even the tree on top so not only are you going to backup a VApp you're also going to backup all the metadata that is on top of it if you have to restore it you'll know all the structure where it is in not only that you you not only have to recover the VApp in the same exact same location you might even recover it somewhere else and make the structure there it will also tell you if the structure has changed okay so I think that is a very important thing not only to support technically VCloud director but also make sure that you have everything within your backup I see a few nodding heads and I like nodding heads so next few slides you will be able to restore an entire VApp but what if I just want one virtual machine out of that VApp okay so all the things you can do today with Veeam backup replication you will do that but on top of that you will also be able to restore an entire VApp okay so single file recoveries I exchange single file recoveries everything will be in here okay this was a little bit of the I know I can't show you a demo today okay I don't even have the VCloud director running already in my lab so yeah it's it's on my to-do list but we'll have some videos coming up pretty soon I don't think we will give a beta of this because it's just it's too integrated in the kernel of in the kernel of backup and replication that we cannot make it just sit next to it like we did a beta for the exchange explorer there is a beta coming up for SharePoint so go to the website and subscribe for if you are interested in the explorer for SharePoint that will be a beta executable so if you use SharePoint please download it try it out it's going to be free it's also going to be free in the release okay two minutes try it out and give us feedback on the forums because the more feedback we get before the product is released the better the product will be okay Vsphere web client plugin easy to use let me just show it to you okay on the left you'll see it in the panel on top I hope you can see it okay there's a few things here this is a small screen I need to turn my head here so you have the inventory of your infrastructure and then on the right you have an overview of how your infrastructure is backed up at this point here's your repositories backup repositories and there's two views of of the statistics of how many are failed or what actually happens and there's there's a view for how many backups you do so you're not going to create jobs in the web client the web client is there to give you a view of how your backup infrastructure runs at this time okay it's not a backup console that you will have I think that makes sense but it's one of the things that I mentioned from features in R&D that can be determined when the product will be released this works but it doesn't work today already in R&D on the appliance so it works on vCenter but it doesn't work on vCenter appliance today because vCenter applies and doesn't integrate that well with plugins so we're still working on that those things those details you might think are the reasons why a product ships in the first week of a quarter or in the last week of a quarter or in between there's two things I want to show you here on this screen so this gives you an overview of your infrastructure but when you look at the bottom of the repositories here it reads capacity planning so click on that and you and there's another one the VMs protected report do we have a screenshot of it no we don't but if you click on this you will get the report the capacity planning report of your backup repositories it will show you all your data stores as in where you're backing up I told it before what it is capacity planning report of your repositories it will show you that you will run out of data and the same thing for your protected VM reports you will get a report how many of your virtual machines have been backed up well in the last month and really show you where you need to work on because we started a little later can we have five minutes of Q&A okay this was actually the end of what I wanted to show it's really as short as possible of a few of the features we already released for version 7 so every two three weeks you will see new features I hope that someone has a question either for Gianluca or Danilo or for me raise your hands if you have a question please or in English